Il 70% degli adolescenti tra i 14 e i 16 anni abusa di sostanze alcoliche abitualmente, il 40% dichiara di mettersi alla guida del proprio motorino dopo aver bevuto. Questi sono alcuni dei dati che hanno preoccupato l'assessore provinciale alle politiche giovanili Roberta Tarlao, la quale ha presentato oggi il convegno alcol e giovani binomio da approfondire in programma il 16 novembre alla stazione marittima. L'intenzione sabato è quella di sensibilizzare e prevenire i rischi conseguenti all'uso di alcol, considerato dai giovani non come fattore di rischio ma come fonte di gioia e benessere. Oltre a non rendersi conto dei problemi causati dall'uso di queste sostanze alcoliche, è evidenziato che chi beve presenta una maggiore oppositività e aggressività. L'età del primo bicchiere cala a vista d'occhio, si parla addirittura di iniziare a bere a 10 anni. L'associazione Trattamento Alcol Dipendenze organizza inoltre progetti di prevenzione promovendo incontri con i ragazzi, in particolare nelle scuole medie e superiori.